Ho da chiederti, tu mi dici molte scuse perché la canzone sui capelli per me mi ha rovinato l'adolescenza. Mi dispiace, per me me l'ha rovinata, averne troppi. La coscienza, una delle tue canzoni più belle, quando ti guardi allo specchio e parli dell'altro, chi è l'altro oggi? L'altro è che chiunque, nel senso che la canzone non voleva essere una canzone sulla diversità più banalmente individuata, nel diverso, per colore religioso e politico. Abituarsi a vestire i panni degli altri, anche i semplici vicini di casa, i nostri amici, tutti coloro che rappresentano la nostra vita, che hanno uno spazio nella nostra vita, che a volte la salvano e altre volte ce la complicano. Quindi è un invito a fare attenzione agli altri. Posso chiederti di che colore è la copertina del tuo ultimo lavoro? Sono due colori, un rosso e un verde, tra l'altro abbastanza arrugginiti, perché è una foto fatta in un faro in Africa, quindi il materiale era abbastanza già pieno di salserine. Quindi banalmente è un accostamento di due colori complementari, quindi di qualcosa che è apparentemente in opposizione, ma che può invece far parte del stesso orizzonte, come in quel caso Tradizione e Tradimento, che è il titolo del disco. Che facevi a quel faro, guardavi l'oceano e dietro c'era un altro tipo di umanità? Sì, la cosa in realtà più curiosa è che mentre le persone che stavano con me effettivamente guardavano sia l'oceano che il paese attorno, che peraltro è stato da poco quasi distrutto da un tifone, quindi è una situazione abbastanza particolare. In realtà sono stato attratto da questo piccolo dettaglio della vernice di questo faro, che è un po' poi il ruolo che hanno gli artisti, volendo quello proprio di riuscire a scoprire dei dettagli dove mette gli altri quanti hanno altro e cercare di raccontarli agli altri. Non è la prima volta per te a Teramo? Ormai in 25 anni di giri in Italia più o meno, non posso dire di conoscerla, perché quando noi viaggiamo, spersonale, dico, abbiamo un incontro molto fugace, molto veloce, non posso dire di conoscere Teramo, oppure essendoci stato in questi anni, sì, però è una grande ricchezza quella per i musicisti di poter pensare di conoscere un pochino meglio la nostra Italia. Un saluto ai Teramani? Eh certo, un saluto ai Teramani e sono davvero felice, come lo dico, con piaggeria di suonare qui, in questa occasione che è un po' speciale, perché io ho sempre un po' rifiutato la possibilità di suonare a Capodanno, perché il mio repertorio, lo stato d'animo che comunico non si confà molto agli festeggiamenti del 31, dove giustamente le persone possono distrarsi, ballare, eccetera, e quindi io preferisco, io non andrei a sentire il mio concerto a quel 31 sera, a me c'è l'idea dell'amministrazione di fare un concerto il primo pomeriggio, dove evidentemente le persone hanno già un pochino sfogato i loro desideri di festa e vogliono magari godersi un'oretta e mezzo anche di ascolto, di parole di un certo tipo, mi dà la possibilità personale per voi, quindi sono davvero molto felice. Ci possiamo fare una foto?